Ma cosa vediamo qui? Molta gente lo seguiva e stringeva da ogni parte. Per me questa è un'immagine bellissima. Il Signore, il Creatore, in mezzo alle sue creature, e le creature vengono attorno a Lui, vogliono stare vicino a Gesù Cristo. È probabile, la maggior parte, o una parte qui delle persone, volevano soltanto una benedizione da questo uomo. Non è che capivano forse che era Dio, o non volevano forse Dio stesso, ma volevano le benedizioni che Lui dà, che offre. Forse era tanta gente così, ma non importa. Comunque è una bellissima immagine di come dovrebbe essere. Noi, creature, siamo dipendenti sul nostro Creatore, colui che ci dà la vita, colui che ci dà ogni respiro. Dovremmo correre quotidianamente a Gesù Cristo, colui che mantiene il mondo, colui che ha il piano perfetto e buono. E vedremo che stabilisce le cose e sta rinnovando le cose, tutto per la sua gloria e il nostro bene. Stringeva da ogni parte che abbiamo qui.